Prima di incominciare ragazzi con il video vi rubo giusto due secondi, vi metto innanzitutto questa immagine alla mia destra e vi dico che ho appena aperto il mio canale Twitch ufficiale che si chiama esattamente c'è chi nato tv trattino basso quindi mi raccomando andatemi a seguire lì su Twitch perché come possiamo vedere ho messo in premio le skin e picconi di Fortnite, infatti se eseguite tutti i passaggi che vedete qui alla mia destra quindi seguitemi su Twitch, restate nelle live perché con i punti canale che sono appunto delle monete che da Twitch come premio diciamo quando guardate uno streamer con quei punti canale voi potrete ottenere degli oggetti dal negozio oggetti che vi regalerò ovviamente io, quindi restate in live e ottenete questi punti canale, non appena avrete diciamo tot punti canali potrete finalmente ottenere o un piccone o anche una skin dallo shop di Fortnite quindi mi raccomando checkinato tv trattino basso andatemi a seguire e seguite le live che saranno ogni sera di norma dalle 8 alle 10.30 barra 10 insomma ovviamente restano anche validi comunque sempre i contest per quello che riguarda YouTube quindi iscrivetevi al canale, commentate con il vostro ID quindi rimane tutto attivo anche per quello che riguarda su YouTube questa è solamente un'aggiunta che vi volevo informare mi raccomando quindi Twitch checkinato tv trattino basso andatemi a seguire detto questo vi lascio subito al video buona continuazione ragazzi bentornati in questo nuovissimo video io sono checkinato e oggi ragazzi siamo in un nuovissimo video su Fortnite News ma prima di incominciare se non siete ancora iscritti iscrivetevi con la campanellina lasciate un bel like condividete questo video con i vostri amici e se ancora non l'avete fatto mi raccomando seguitemi anche su Instagram checkinato trattino basso tv detto questo ragazzi nel video di oggi abbiamo veramente una marea di buone notizie innanzitutto parleremo un po' della nuovissima stagione 6 poi ovviamente il tema principale di questo video un nuovissimo torneo per ovviamente il continente Europa quindi noi con una ricompense anzi con ben due ricompense una skin che adesso andremo a vedere e anche delle emot se non sbaglio uno standardo e poi se non sbaglio c'è anche una piccola emot che puoi fare con le mani e poi ragazzi ovviamente nuovissimi leak per la stagione 5 direi subito di incominciare innanzitutto con questa primissima news che vi metto qui alla mia destra e come possiamo vedere avete presente che ci saranno durante la stagione 6 dei fumetti che poi vabbè sappiamo la storia con dei codici riscatteremo la skin di Harley Quinn poi anche il Batman insomma tutte queste cose ma oltre questo ragazzi ci saranno ovviamente delle storie in questi fumetti che saranno pure all'interno di Fortnite infatti come possiamo vedere nel periodo di tempo in cui verranno pubblicati i fumetti quindi il 20 aprile esattamente ci saranno degli eventi sull'isola di Fortnite proprio come ci saranno anche nei fumetti quindi una bella collaborazione con la DC ricordo che questo non conferma assolutamente che la stagione 6 sia in collaborazione con la DC anche perché la collaborazione con la DC inizia proprio il 20 aprile e non il 14-15 marzo quando inizia la nuova stagione quindi non dovrebbe, state tranquilli, essere a tema di sì la nuova stagione 6 inoltre ragazzi vi mostro pure questa immagine qui alla mia destra come possiamo vedere tutte queste skin che vedete proprio qui comprese i picconi insomma e tutto il resto che vedete sono esattamente le skin di San Patrizio che verranno rilasciate esattamente prossima settimana quindi se le state aspettando preparate i vostri V-Bucks perché settimana prossima dato che ci sarà San Patrizio adesso non ricordo bene il giorno però è settimana prossima ci saranno tutti questi oggetti nell'item shop inoltre ragazzi grandi novità anche per il punto 0 come possiamo vedere da questa immagine allora sembra che il punto 0 in questo momento stia avendo innanzitutto delle pulsazioni lungo i raggi del portale e inoltre sotto di esso ci sono delle vibrazioni in aumento sempre quindi più diciamo brevi quindi ci sono sempre più pulsazioni in questo punto 0 questo è ovviamente una grande notizia questo vuol dire che magari succederà qualche cosa magari a fine stagione sicuramente non ci sarà l'evento questo sicuramente dato che non ci sono pack decryptati per il momento riguardante appunto a un evento però magari un mini evento magari come lo era successo per la stagione 6 del cubo ci sarà e inoltre ne approfitto per farvi vedere ragazzi la nuovissima modalità che non so ancora quando arriverà però secondo me entro questa fine settimana dovrebbe arrivare perché poi inizia la stagione 6 sì la stagione 6 quindi sicuramente prima della nuova stagione arriverà ed è esattamente questo vi do giusto 4 info veloci innanzitutto ragazzi stando nel terreno mentre si è appunto danneggiati ti darà 4 di salute a scudo al secondo quindi se siete danneggiati e siete nel terreno praticamente vi darà punti salute per quanto riguarda però lo scudo poi le cure sono state rimosse da questa modalità e inoltre il loot della modalità è simile quindi a quello classico quindi un po' come giocare una normale diciamo partita inoltre da quello che so aggiungeranno proprio in questa modalità una bomba esclusiva che praticamente rianima subito il vostro compagno quindi veramente una modalità molto molto interessante che dovrebbe arrivare molto presto e adesso ragazzi andiamo a parlare un po' dell'argomento più interessante l'argomento principale di questo video ed eccolo qui come possiamo vedere qui alla mia destra per tutti i nostri giocatori dell'Europa praticamente c'è questo nuovissimo torneo in collaborazione con la 3 e Wind 3 quindi due aziende che sicuramente conoscerete benissimo e praticamente con questo torneo potrete riscattare delle ricompense gratuite per quanto riguarda la skin posizionandovi nelle migliori top tranquilli adesso le andiamo a vedere nel dettaglio e invece ci sono poi altre due ricompense che potrete ottenere semplicemente facendo 5 partite in questo nuovissimo torneo andiamo ovviamente però a vederlo nel dettaglio questo nuovissimo torneo infatti allora innanzitutto il torneo sarà Interzetti quindi mi raccomando preparate il vostro trio perché sarà per forza di cose Interzetti scusate poi seconda cosa 2FA ovviamente lo dovete avere attivo la data sarà esattamente domenica 14 marzo dalle 14 alle 17 regioni solo Europa quindi esclusivo solo per il nostro server e le piattaforme saranno tutte quindi Android, PS4, Xbox insomma tutte le piattaforme che conoscete sarà disponibile questo torneo poi abbiamo anche la modalità di gioco che è una cosa fatta ovviamente con Win 3 non ci frega abbastanza nulla e poi ci saranno ben 10 partite ovviamente in modalità Terzetto quindi circa 3 ore di torneo andiamo ovviamente anche a vedere le ricompense nel dettaglio di questo torneo infatti come possiamo leggere qui con 5 partite effettuate nel torneo quindi non servono punti, non serve niente basta che effettuate solamente 5 partite, 5 match e vi daranno un emoji che attualmente non so ancora quale sia e poi vi daranno anche un sovraccarico Trinity non so cosa sia comunque per quanto riguarda la prima ricompensa è un emoji e l'altra probabilmente sarà un emote in teoria dato che non c'è scritto nulla in teoria dovrebbe essere o un emote o massimo una copertura army dobbiamo ancora capire e poi invece per quanto riguarda la skin quindi Trinity la conoscerete benissimo l'abbiamo anche già vista nei video previsione la potremmo ottenere posizionandovi esattamente alla top 3330 vabbè insomma la leggete lì terzetti quindi insomma se vi posizionate in quella top lì potrete ottenere il costume Trinity in anteprima la skin comunque è questa vi faccio giusto vedere lo zoom di come è fatta la conoscerete comunque benissimo è una skin che risale a qualche patch fa che infatti non usciva nel negozio oggetti infatti l'abbiamo vista in questo torneo infatti sarà ottenibile in questa maniera ovviamente poi verrà messa comunque nel negozio oggetti dopo qualche giorno sicuramente il torneo detto questo ragazzi queste erano le ricompense che potrete ottenere dal torneo insomma abbiamo anche un po' parlato delle news del punto zero e della nuovissima stagione detto questo noi ci vediamo dopo però alle 18 con il video previsione e alle 20 in live su Twitch bella iscriviti al canale